Sono aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola Musicale Goitre di Vallo della Lucagna, sede decentrata del Conservatorio Statale di Musica Martucci di Salerno. L'ente, accreditato alla Regione Campania, comunica che è possibile iscriversi ai corsi musicali pre-accademici e ai corsi sperimentali di musica liturgica, oltre che ai masterclass con corsi di alto perfezionamento musicale. L'eccellenza musicale nel cuore del Cilento che vede quale presidente onorario Maria Gresta. Solo qualche giorno fa, presso il Teatro Leude Berardinis, si è tenuto l'ultimo appuntamento delle giornate riossignane, organizzate dalla Scuola Musicale Goitre e dal Conservatorio Martucci. Cinque serate con grandi protagonisti che hanno dato l'occasione di salire sul palco anche ai giovani studenti del Cilento. Una bella realtà che da anni vede impegnata Santina De Vita e il direttore Nello De Vita. L'istituto musicale Goitre pensa anche ai più piccoli. Riparte infatti il laboratorio di canto corale presso l'ex convento dei Domenicani. Le prove si terranno ogni lunedì dalle 16 alle 18 e possono partecipare tutti i bambini dai 5 agli 11 anni. Grazie.